Marisa, perché non uso il coltellino? Ah, zia Marisa, ma chi me lo fa fare? Si hanno inventato il pelo pomodori così perfetto, si conserva la polpa ed è velocissimo. E che coperchio è quello lì? Uno normale, non ce l'hai? Ma perché devo usare uno normale se questo è sottovuoto? Vedi, guarda, puoi conservare pure le cose in frigorifero con un piatto. Hai visto? E adesso che stai facendo? Sto tagliando le carote a Giulienne perché voglio fare l'insalata. E perché non uso il coltellino? Non uso il coltellino. Perché questo è perfetto. Ma dimmi una cosa, se tu usi gli oggetti appropriati in cucina, fai meglio e sei più veloce, hai capito? Se devi pelare le patate, per esempio, che cosa usi? Il coltellino. No, il pelapatate. Oh, e per esempio se devi pelare l'aglio, che cosa usi? Il coltellino. No, il pelaglio, che poi lo puoi utilizzare pure come portamanico della padella, così non ti bruci. Ah, e dimmi una cosa, se devi mettere il sale, che cosa usi? Il coltellino, dimmi. Uso le mani, Marisa. No, invece il dosatore di sale, una dose in un litro d'acqua. Con Show puoi usare tutto al momento giusto. Utensili di grande qualità, garantiti a vita. Show e dai spettacolo in cucina. Ole!